Il mondo della finanza e degli investimenti è complesso e spesso, dietro determinate formule o espressioni di importazione, si nascondono le insidie maggiori per chi dirotta i propri risparmi verso la finanza cosiddetta creativa, non di stampo classico, certo di trarne profitto. A mettere in guardia da questi rischi è la due giorni che parte domani a Bari, in cui si confronteranno analisti finanziari, psicologi esperti di finanza comportamentale, funzionari bancari per parlare di strumenti alternativi di investimento alla classica banca o ai prodotti finanziari postali. Si tratta della quinta edizione del forum organizzato dalla Pellegrino & Partners e dall'ASEF, l'Associazione Sud Europa Economia e Finanza. Il pubblico conosce le obbligazioni, le azioni, ma ci sono strumenti che oggi permettono di alternare questo investimento che sono anche gli ETF, gli ETC, ovvero fondi quotati sulla borsa, quindi acquistabili alla pari delle azioni, che permettono sia di puntare al rialzo che al ribasso delle oscillazioni del mercato, quindi di proteggersi da investimenti poco corretti.